ecco oggi abbiamo liberato l'ultimo tratto dai rovi ecco qua finalmente i resti del taglio quindi la camminata adesso è più agevole nel frattempo i ragazzi sanno raccogliendo la spazzatura lasciata dall'uomo negli anni passati e non tornano ancora c'è tanto da raccogliere qui eccolo il primo sopravvissuto di merita di mario, come ti chiami tu? fiorella vediamo ecco qua siamo anche l'altro sopravvissuto anche a farla a posto stavo facendo un video aiuto e giampaolo vabbè c'è anche giampaolo laggiù vi saluto